Oggi parliamo delle telecamere perché siccome va di moda molto il furto, la rapina, l'aggressione anche perché se non lo sai Carlo hanno registrato la telefonata di un rumeno che chiama i suoi in Romania e dice venite qua che tanto anche se si fa le rapine dopo una settimana siamo fuori e ad Arezzo tutti ora hanno questo terrore ma le telecamere non funzionano non funziona perché non funziona perché non lo so c'erano state se non funzionano devi dare delle risposte qualcuno qualcuno l'avranno montate avranno vinto un concorso avranno vinto un'asta per mettere su e se non funzionano la colpa sarà di che l'ha messa su però loro l'hanno pagati loro chi noi si sono pagate noi cittadini sai come funziona lo stato si va bene ecco noi si sono pagati ma non si può fare niente noi però si può dare un messaggio al sindaco Ginelli al camerata Ginelli il camerata Ginelli è un fascista Ginelli ah non lo sapevo ah non lo sapevo io al camerata Ginelli struncare no niente devono funzionare devono funzionare queste qui con le buone e con le cattine oppure chi le ha commissionate ci ha lucrato minimo ha comprato delle cazzate no le cazzate perché poi c'era Ginelli non ha mai funzionato anche perché una volta c'era i vecchini come te dietro le persiane che spiavano era la telecamera nascosta della volta ma se funzionava la dunnina e l'umino dietro ma a noi se funzionava è certo questo è funzionato anzi non vedevi l'ora di fare la spia è logico mi pareva anche vera me sono stati quanti furti hai sventato io niancuno anche perché ti sei trattenuto neanche niancuno le violenze alle donne li sventi perché ti trattieni sì sì ma poco quindi diamo un messaggio devono rifare funzionare tutte le telecamere perché è l'unico è l'unico con quell'occhio c'ha le cispe come i ricci eh che vuoi fare te c'è il capo così ognuno c'ha il suo io c'ho l'occhio te c'è il capo la Rita Rita le tuba tutte le mie no no c'è il capo te lo immagini i miei occhi e il tuo capo sarà da mettere allozzo e che meno male che siamo separati saluto saluto la Rita saluto le telecamere saluto i ladri saluto tutti tutti i politici saluto quando avete detto i ladri l'avevi già con non avevo preso di morte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti